ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video sono abbastanza emozionato un imbarazzato perché è la prima volta che provo una maschera con voi non è tanto il provare una maschera perché a me non mi frega niente di cose da uomo cose da donna bla 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 quanto il fatto che ho deciso di fare da solo è una maschera della montagna genessa come si pronuncia che ho vinto nel giveaway di barbara cherry glimmer di cui vi lascio il link al canale peraltro così passate guardate un po se mi piacciono le cose che fa e quest'oggi ho scelto una maschera che diciamo così è stata classificata come correttamente maschile però a me non mi frega nel senso se ci fosse una donna farei uguale la maschera è questa qui e cercherò quello che è possibile di velocizzare mentre faccio vedere come provo maldestramente a mettermela ah naturalmente ho già lavato il viso e avevo lo specchio davanti anche se voi non so cosa stiate vedendo completamente senasparente non si vede io non ho l'idea di quello che sto facendo però poi voglio una coccola oggi oltre che di usare insomma un regalo molto molto gradito sulla confezione ce l'ha detto io non lo so se diventano c'è ovviamente dovevo beccare proprio quella trasparente così non ho idea di dove tanto e come sto mettendo eccomi color in realtà è passato un pochino di più perché ho avuto qualche problemino tecnico a riprendere il video e poi sta un po' di più di una mezz'ora e però vi voglio togliere la maschera insieme a voi tra l'altro sembra sembra una cosa facile sembra non lo voglio dire tanto forte e poi comunicarvi le sensazioni a caldo grazie a tutti Allora ragazzi, ho tolto la maschera, ho lavato il viso e ho passato in realtà un po' perché avevamo un po' da fare sinceramente Però il risultato è qui, davanti ai vostri occhi, ci tenevo a fare la giusta conclusione Dunque, la maschera per quello che mi riguarda è promossa Nel senso che comunque non aspettatevi miracoli, neanche io mi aspettavo miracoli Però la differenza si vede il viso comunque più pulito, per me che soffro di termodice borroia Una coccola così ogni tanto va bene L'unica cosa, l'unico punto che sinceramente è una precauzione prenderò io Consiglio a chi ha i capelli corti di non farla quando avete i capelli troppo lunghi E a chi ha i capelli lunghi di mettervi magari una fascia in testa prima quando fate questa maschera Perché vedevo nello specchio che mi erano andata anche un po' sui capelli E ho fatto l'errore di farla con i capelli abbastanza lunghi Quindi questa è l'unica precauzione a prendere secondo me la prossima maschera La farò sicuramente dopo che avrò tagliato i capelli Visto che oggi è il 5 maggio Siamo ormai prossimi all'estate E la farò con i capelli più corti Io vi saluto Vi ringrazio se mi avete guardato fino a qui Vi ricordo di attivare la campanella per non perdere nessun video Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E noi ci vediamo la prossima volta Un bacione